La provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza della SR418 Roscigno, bello sguardo, ricadenti nel comune di Roscigno, dell'importo netto di circa 73.200 euro. I lavori, dichiara il presidente della provincia, iniziano in queste ore e consistono nella reggimentazione acque piovane e rifacimento della pavimentazione a tratti saltuari in conglomerato bituminoso caldo e successiva rullatura al chilometro 0 più 500. Apriamo nuovi cantieri, conclude il presidente per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete della nostra comunità.